Parlando con amici, clienti o conoscenti, mi capita spesso di sentire frasi del tipo Certo che utilizzo i foli di Google, li aggiorno ogni mattina, li scarico in formato PDF dal menu e li invio personalmente per posta ai miei clienti. Perché? Dici che con Google Apps Script posso evitare di fare queste operazioni a mano ogni giorno? Non ne ho mai sentito parlare. E comunque, in un'ora faccio tutto. Beh, un'ora al giorno su otto, in un anno, escludendo sabati, domeniche, ferie e festività, fanno più di 27 giorni passati a ripetere la stessa operazione. Credo che solo questo possa essere un valido motivo per utilizzare Google Apps Script nelle attività quotidiane, ma non mi fermerò a solo uno, te ne dirò oltre 10 di motivi. Vediamolo in questo video. Ciao, sono Michele e in questo video voglio parlarti di Google Apps Script dandoti 10 buoni motivi per cui dovresti utilizzarlo nell'attività di tutti i giorni. Ma andiamo per ordine, che cos'è Google Apps Script? Se non ne hai mai sentito parlare, oppure se te ne hanno parlato ma ti hanno spaventato termini come sviluppo, API o applicazioni web, ti rassicuro sul fatto che tutto quello di cui hai bisogno è un account Google e una conoscenza base di JavaScript. Se invece parti da zero, ti anticipo che nel primo capitolo del mio libro, Punta in alto con Google Apps Script, troverai le fondamenta e concetti chiavi della programmazione web, che ho semplificato al fine di garantirti di iniziare subito a trarne beneficio e sentirti gratificato dai tuoi primi script. Il primo vero motivo per utilizzare Google Apps Script è che è un linguaggio di scripting basato su JavaScript, che è uno dei linguaggi di programmazione più ricercati e utilizzati al giorno d'oggi. Non per niente, i risultati dei sondaggi per sviluppatori effettuati da Stack Overflow vedono JavaScript come il più popolare linguaggio di programmazione in uso. Questo fa di Google Apps Script un ottimo primo linguaggio per avvicinarsi al mondo della programmazione rapida. Il secondo valido motivo è che la sua diffusione ti garantisce di trovare una soluzione ad ogni problema. Data la sua notorietà dal 2010 ad oggi, l'interesse mondiale per Google Apps Script è in continua crescita. La documentazione è chiara aggiornata, inoltre esistono molte risorse online consultabili e community attive. Una di queste, in italiano, è il gruppo su Facebook Fatti di Apps Script, dove troverai sempre qualche appassionato come me e te disponibile a darti un consiglio. Inoltre, se sei in cerca di ispirazione o tutorial, puoi consultare il mio blog Apps Script.it. Da qui passiamo al terzo valido motivo, ovvero non hai bisogno di installare o configurare niente sul tuo computer, dal momento che puoi accedere all'editor di script direttamente dal tuo browser. È altresì importante sapere che non devi preoccuparti di hosting o infrastrutture hardware dal momento che gli script sono salvati ed eseguiti sui server di Google. Li troverai comodamente nel tuo Google Drive. Altra grande semplificazione è che il processo di autorizzazione avviene in modo automatico. Non devi preoccuparti di installare librerie, definire ambiti di lettura e scrittura o attivare chiavi di autenticazione. Fa tutto da solo e in modo completamente trasparente. Puoi utilizzare l'API di Google e dialogare con i vari strumenti in modo semplificato, grazie ai servizi preintegrati e al suggeritore automatico. Ti basterà aprire l'interfaccia di Google Apps Script ed iniziare a scrivere i codici concentranti solo su quello che vuoi ottenere. Come settimo valido motivo, la familiarità dell'ambiente in cui lavori. Se utilizzi Gmail, fogli di Google, documenti o altri strumenti della G Suite, conosci bene l'aspetto e le funzionalità che offrono. Potrai utilizzarle o ampliarle l'autocodice, conoscendo bene il risultato che puoi aspettarti. Ad esempio, nel caso dello scenario visto all'inizio di questo video, potresti creare un menu personalizzato per i fogli di Google per lanciare una funzione che aggiorna i dati, scarica i file in PDF e l'invia in automatico per email all'indirizzo di riposta desiderati. Se vuoi risparmiarti anche questo passaggio, ti basterà impostare un attivatore che tutti i giorni, alla stessa ora, esegue la funzione ed effettua le operazioni in automatico al posto tuo. Questo ci porta ad azzerare completamente il margine di errore dovuto a distrazioni a causa della routine di operazioni manuali che generano abitudine. Si eviteranno quindi errori di trascrizione o l'invio di posta ad indirizzo email non desiderati. Come nono punto da non sottovalutare, oltre alla questione del tempo risparmiato, quella motivazionale tua e del personale impiegato, poiché le attività a basso valore saranno delegate agli script. Come ultimo punto, ma non per importanza, Google Apps Script è completamente gratuito. Ti basterà accedere a Google Drive e creare un nuovo file, oppure aprire l'editor di script di foglie o documenti dal menu strumenti, assegnare un nome al progetto ed iniziare a scrivere codice. Ti renderai subito conto di come questo strumento possa farti risparmiare un sacco di tempo e farti sentire gratificato di aver realizzato qualcosa di positivo, funzionante e con pochissime righe di codice. Hai già avuto modo di toccare con mano questi vantaggi, oppure ti sta chiedendo perché non lo aveva ancora utilizzato prima? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Tutti questi aspetti sono trattati e approfonditi nel mio libro Punta in alto con Google Apps Script, disponibile su Amazon all'indirizzo che trovi in descrizione. Come sempre spero di esserti stato utile, iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!